invito qui la nostra senatrice Ivana Simeoni Buonasera, grazie a tutti, sono Ivana Simeoni, la vostra portavoce al Senato è quella che porta avanti le vostre istanze cioè quello che voi cittadini segnalate segnalate o diciamo ai nostri attivisti o comunque potete anche raggiungerci attraverso i nostri canali tipo Facebook noi cerchiamo di fare il possibile per portare avanti le vostre rimostranze allora da quando sono in Senato, anzi prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei attivisti che sono ai tavoli e che si prodigano tanto perché sono loro che poi ci danno la possibilità di portare avanti le interrogazioni, le emozioni e i disegni di legge e devo dire che da quando sono al Senato ne ho viste veramente di tutti i colori lasciatemelo dire, cioè io sono una cittadina che viveva come voi lavoravo al 118 di Latina in centrale operativa e sono stata diciamo catapultata all'interno del Senato e lì dentro sinceramente abbiamo trovato i lupi i lupi per cui i primi tempi noi eravamo molto timidi e molto un po' chiusi fra di noi ma piano piano con le unghie e con i denti abbiamo iniziato a conquistare un po' alla volta degli spazi nostri e poi studiando e informandoci molto col centro studi siamo riusciti a fare delle cose veramente importanti come disegni di legge, interrogazioni e emozioni non ci hanno anche diciamo molto ostacolati e nonostante che loro ci ostacolassero molte cose siamo riusciti a farle passare un po' perché ne facciamo di tutti i colori quindi riusciamo attraverso le nostre espluare i ragazzi della Camera che hanno occupato il banco del governo le manette che si sono messe il bacio che si sono date quando c'era da portare avanti diciamo la dimostranza dei gay perché assolutamente diciamo moltissimi tra senatori e deputati da questo orecchio non ci sentono e tantissime altre cose che abbiamo fatto anche noi in Senato adesso chiaramente sul tavolo ci sono cose molto importanti tra cui anche diciamo un decreto legge sul lavoro e questo è veramente una cosa molto molto difficile da poter far capire a questa gente che quello che intende fare è praticamente distruggere quel poco di lavoro che ancora è rimasto a tempo indeterminato cioè loro vogliono togliere quelli che sono a tempo indeterminato per far lavorare come faceva Berlusconi un milione di posti di lavoro loro ci sono centomila persone che lavorano a tempo indeterminato? lo tolgono e fanno lavorare 400 mila persone a che ne so a tre mesi, a due mesi questi diciamo contratti capestro per cui la gente non può né mangiare né crearsi un futuro, né fare nulla e neanche comprare ai figli nemmeno una cartella per andare a scuola la cultura ormai è diventato un optional veramente questo mi fa male al cuore perché noi siamo cresciuti con io perlomeno ero da piccola avevo sempre questo sogno di diventare qualcuno poi si è avverato ma certo non speravo tanto ma quello che mi interessava molto era la cultura la cultura è la base per i nostri giovani è la base perché se non abbiamo questo non facciamo niente nel mondo allora parliamo poi di Latina io faccio parte sia della commissione di diritti umani che sia della commissione sanità chiaramente quello che mi premeva molto è diciamo di fare dei disiniveggi a livello nazionale ma molto mi premeva anche il livello locale perché noi a Latina come sanità siamo messi proprio con le pezze detto volgarmente e allora abbiamo ci siamo un po' spesi per fare interrogazioni sull'ospedale di Latina abbiamo denunciato abbiamo fatto delle dispezioni all'interno dei pronto soccorsi di tutta la provincia tutti insieme con Barillari con Gaia cioè ci siamo dati proprio da fare per quanto riguarda poi il 118 che è proprio nel mio cuore ho cercato in tutti i modi di spingere infatti sono stati fatti addirittura degli esposti alla procura della Repubblica cioè noi cerchiamo di mettere il dito in tutte le piaghe perché qui ci sono tante piaghe che devono essere sanate certo la situazione è un po' complicata non è semplice e poi diciamo mi sono occupata anche non solo della sanità ma anche dei diritti umani e in questo senso molto mi sono diciamo prodigata per questa piaga che abbiamo dei senza tetto che sembra una cosa un po' però diciamo a Latina si vede molto di meno ma vi giuro a Roma ci sono famiglie intere che vivono in strada che vivono in macchina e non sono gli stranieri ma sono gli italiani che ormai hanno perso la casa e quindi sono costretti a vivere in macchina e tra l'altro gli vengono anche sottratti i figli e qui stiamo facendo un altro disegno di legge perché per questi bambini sottratti ma come tu Stato paghi 200 euro al giorno alle case famiglie e non dai 500 1000 euro al mese alle famiglie per campare i figli a casa loro quindi sono cose assurde che solamente in Italia si vedono queste cose perché negli altri paesi c'è una rete protettiva per le famiglie che rimangono senza lavoro che rimangono senza possibilità economiche solamente qui si vedono queste cose veramente allucinante poi altri disegni di legge vari sull'amianto sulla ludopatia per quanto riguarda il gioco d'azzardo interrogazioni di tutti i tipi adesso quello che ci sta premendo molto è siccome io sono molto diciamo una persona che ama molto la natura e quindi questi scempi che fanno in provincia della China a me proprio mi vanno di traverso cioè il lago di Paola che è uno dei più bei laghi del mondo lo stanno inquinando avevo visto un servizio sul giornale con delle schiume che non so da dove arrivino e quindi adesso stiamo facendo un'interrogazione per avere notizie di questa cosa ci devono rispondere che cosa sta succedendo al lago di Paola che è veramente è spettacolare e in questo senso diciamo ho anche presentato un emendamento sperando che lo accolgono per poter aprire questi parchi ad attività ludiche sportive ed eco-musei cioè tutto rispettando la natura sempre ma poter dare al cittadino anche un punto diciamo diciamo un punto ludico dove passare la domenica con i cavalli e con le canoe con tutto ciò che sia possibile realizzare all'interno dei parchi sempre rispettando come in America c'hanno i rangers all'interno dei parchi fanno di tutto e di più ci vivono con i parchi e noi qui abbiamo la natura e niente abbiamo l'arte di tutti i tipi e niente cioè o ci diamo una svegliata perché ormai le fabbriche ce le dobbiamo dimenticare dobbiamo pensare a vedere di poter far riemergere la cultura e la natura ma anche purtroppo il lavoro nei campi va ripreso perché chiaramente i giovani non lo so quello che potranno fare magari facendo oggi si studia non è che si va più con la zappa lì a zappare ci sono attrezzature ecco insomma cercare di prenderci un po' in mano quest'Italia che comunque e poi l'ultima cosa ve la dico adesso e poi ve la so i miei colleghi perché se no divento troppo lungo e mi voglio anche interessare per un disegno di legge sull'immigrazione perché noi dobbiamo accogliere gli immigrati ma gli immigrati si devono accogliere o bene o per niente allora siccome noi siamo tantissimi e ne sono arrivati tantissimi e non gli possiamo dare nulla e stanno facendo cose allucinanti io ho parlato col prefetto del compagnucci in commissione di diritti umani gli ho detto guardi non è questo il modo di accogliere le persone allora l'Europa non ci può dare 5 lire che poi vanno in tasca sempre i soldi noti e queste persone poi stanno in mezzo alla strada tant'è che adesso arrivano addirittura dei pullman dalla Sicilia che scaricano queste persone migliaia di persone all'interno delle grandi città li lasciano lì e se ne vanno cioè questo non è più tollerabile dobbiamo fare un progetto con l'Europa importante prima di tutto per fare i car che sono i centri d'accoglienza sulle coste dell'Africa e ci deve pensare l'ONU perché loro sono deputati a queste cose per non farli morire in questi raggitti e per togliere la macchia di mezzo e poi evitare queste nuove macchie cioè queste dei pullman che portano avanti in vero la gente la scaricano così la buttano in mezzo alla strada ma questa è l'accoglienza che abbiamo in Italia va bene comunque vi ringrazio tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti